è tornato l'app di un professore vesuviano buonasera professore vuole dire qualcosa al pubblico di fannimuno allora praticamente dice il professore fannimuno è un bel programma fatto bene di gente che lavora bene giovane soprattutto e il sito è www.fannimuno.it giusto esattamente vuole aggiungere qualcos'altro sempre il giovedì in onda sui nostri canali per tutte le info le trovate sul sito sul facebook sempre fannimuno fannimuno ma dice tutte queste cose facendo un verso noi siamo stritti stritti noi abbiamo l'arte e l'arte di parlare corte e tagliate perciò cam a fa cam a mungene che significa andiamo ce ne ho io mungene a proposito agli ammungen fannimuno e se ne va attorno alla settimana prossima vi ricordiamo che se volete sapere quando andiamo in onda dove andiamo in onda perché nemmeno soprattutto per me che fa come si fa come si fa come si fa come si fa a se amate i social network facebook e basta andare su facebook e scrivere fannimuno così brava così brava così e trovate la paginetta con la lunetta che ha così che questa qua amun 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 a luna rossa andiamo avanti esatto e però tu essendo parte una bella c'è la parte cantericcia eh scinna coppa ammiazzati va bene le info sono sempre quelle www.fannimuno.it facebook l'abbiamo dato 33 33 86 93 se volete comunicare con noi ci vediamo la prossima puntata sempre il grande james lavotta o professore vesuviano e bixio ci vediamo la settimana prossima capisci 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 diccio bastardo ciao 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 Anni Moon Anni Moon